Gli isolatori ad alta tensione sono soggetti ad un sempre più elevato attacco chimico dovuto ad inquinamento, gas di scarico, atmosfere corrosive, elevata umidità ed altre impurità contenute nell'aria. L'accumulo di queste sostanze, l'erosione delle superfici e la cristallizzazione dei sali causano pericolose scariche elettriche che mettono a rischio l'operatività dell'impianto e la sicurezza degli operatori. Donelli Elexo e Sacafen presentano i due prodotti più efficaci sul mercato per la pulizia e la manutenzione per gli isolatori ad alta tensione, sia in porcellana che in resina. La pasta pulente Rainingun Spaste Sacca 80 ed il grasso siliconico Silicon Fat Sacca 81. Questi due prodotti permettono un'accurata pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria delle superfici e forniscono uno strato protettivo idrorepellente che garantisce l'efficienza energetica degli isolatori. Le tecniche di pulizia tradizionali come il lavaggio con acqua e detergenti sgrassanti sono di difficile esecuzione ed hanno limitata efficacia non restituendo superfici adeguatamente pulite ed idrorepellenti. L'applicazione della pasta pulente Rainingun Spaste Sacca 80 avviene in tre semplici fasi. Rimozione della polvere e sporcizia superficiale. Applicazione manuale della pasta pulente Rainingun Spaste Sacca 80. Lucidatura della superficie con un panno pulito. Il risultato è evidente dopo un solo trattamento. Successivamente il grasso siliconico Silicon Fat Sacca 81. Questi due prodotti Saccafen sono utilizzati in Europa e nel mondo dai principali operatori nei settori dell'energia. del trasporto ferroviario e nelle acciaierie. I prodotti Saccafen permettono una rapida ed efficace pulizia grazie anche alla comoda confezione pronta all'uso. Sono assolutamente atossici. Consentono un risparmio fino al 75% dei costi di manutenzione degli isolatori riducendo il numero degli interventi necessari. Per maggiori informazioni ed ottenere quotazioni online visita il nostro sito www.donelli.it